allora paolo come va la vendita di scarpe sul tuo sito il referenziamento è ben avviato ma una montagna di prodotti da fotografare mi ci vorrà molto tempo e se mi rivolgo a un professionista mi costerà beh non conosci scan cube il cosa lo scan cube viene a vedere te lo mostro è una scatola magica metti il tuo prodotto nello scan cube scegli il tuo modello di foto scatti in alta definizione e un potente software fa il resto potete anche mostrarlo in 3d sì il software lo inserisce nell'ambiente che vuoi o lo anima in 3d in due minuti anche i grandi gruppi lo hanno scelto wow cambierei i miei tasti di conversione con scan cube i miei costi di ripresa si sono azzerati e risparmio molto tempo è davvero la soluzione ideale per mostrare i miei prodotti e preparare al meglio le mie campagne di marketing scan cube è un prodotto 100% made in france che da oltre 10 anni aiuta più di 3.000 aziende in tutto il mondo iscriviti al canale che